Prima conferenza stampa stagionale del tecnico Zeman in clima campionato. Domani inizia il girone B del Pescara, fischio d'inizio ore 20 e 45 all'Adriatico contro la Juventus Under 23. Diciamolo subito, Zeman non ha voluto parlare di mercato, alle 20 lo stop del trattativo e solo un commento su Davide Di Pasquale. Appena arrivato l'ex capitano della Foggia con contratto biennale, Zeman ha detto un giocatore bravo, lo conosco bene, avevamo bisogno di un altro centrale. Per il resto nessun commento sulle trattative di mercato, indisponibili domani Tomassini e Cangiano. La bella notizia è che Vergani è convocato e ha qualche minuto nelle gambe, probabilmente potrà entrare nel finale al posto di Cuppone, unico riferimento centrale disponibile. Qualche problema in attesa sempre del mercato per Aristidi e Colai, problemi anche per Floriani e Mussolini ma risultano tra i convocati i giocatori. Le parole importanti dette da Zeman, tanti giovani bravi, qualcuno potrà andare in Serie A ma devono ancora capire, per il momento c'è confusione, all'inizio faremo fatica ma poi l'obiettivo è competere con le migliori del girone. Andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli le parole di Zeman. Chi è indisponibile e quanti dubbi di formazione ha? Tanti dubbi di formazione vuol dire che volete formazione. Ma non ce l'avete. Noi abbiamo indisponibile Tomasini, Canciano, forse Colai che si è fatto male stamattina e non so se riesce a recuperare. E penso basta di quelli che... C'era un problema anche stamattina ma più su digestione che non si è allenato Romano-Floriano. Le volevo chiedere intanto se Vergani è disponibile per giocare qualche minuto e a centrocampo Aloi è a disposizione o qualche voce di mercato lo ha un po' distratto? Grazie. No, Vergani si è allenato praticamente due volte con la squadra. Per me è a disposizione anche se è normale che non può fare 90 minuti e penso nemmeno 45. Non penso nemmeno 45 ma come ho a disposizione solo Cuppone come centravanti speriamo che dura Cuppone. Ma nel caso 10 minuti vuol giocare per tanto? Sì, 10 minuti li può fare anche perché anche se non si è allenato con la squadra si è allenato sempre a parte con Carlo. E su Aloi? E Aloi non credo che ha problemi di mercato. Lui è qua, la società l'ha confermato, lui non si è mai lamentato e penso che vuole stare qua. Sul piano tattico abbiamo ancora grosse confusioni che si spera che si risolvano. E' normale una squadra, io mi auguro solo che i giovani si vogliono mettere in mostra che lavorano e che lavorano insieme. Per ora vedo più che vogliono fare da soli che affidarsi al resto della squadra. E possiamo avere problemi solo lì. A centrocampo è contento di come Squizzato ha lavorato da Play oppure c'è anche la possibilità che quel ruolo lo faccia Aloi e Squizzato rende meglio da Mezzala? Grazie. Io sono contento di Squizzato, lui magari le prime partite correva troppo. Per me il regista deve correre di meno ma ragionare di più. Ora si sta adattando, lui i piedi ce l'ha, il fisico ce l'ha, quindi c'è tutto aperto. A lui c'è sicuramente più esperienza di lui e sa, però anche lui non è un mediano regista. A lui ci piace svariare. Vabbè io li ho visti quando hanno giocato con la UEA, 8 a 0 ci sta. Poi li ho visti in un'altra partita e lì già hanno giocato calcio diverso e quindi bisogna vedere che cosa vogliono fare quando vengono qua. Noi siamo pronti a tutto.